Dovete capire dove e come vi inserite nelle dinamiche di gruppo. 1. In primo luogo dovete diventare quello che viene chiamato un aspirante sul sentiero. 2. Dopo aver raggiunto un certo equilibrio ed armonia interiori, ed aver ottenuto l'accesso alla vostra sacra mente e sacro cuore, dovete diventare un iniziato sul sentiero. 3. Dopo aver raggiunto il primo livello di consapevolezza di sé, diventate discepoli operatori di luce in passato, questo viaggio nella consapevolezza individuale veniva descritta come passare attraverso i livelli dell'iniziazione. Questo termine non è più valido. 4. Infine, arriva il momento in cui dissolvete con successo le membrane di luce poste davanti al vostro sacro cuore e sacra mente. Mentre raffinate la vostra firma energetica e la vostra canzone spirituale. Eleverete la vostra capacità di trasformare rapidamente l'informazione e conoscenza in saggezza integrando e praticando le verità superiori di saggezza, che avete accettato come vostre, in modo da poter passare dalla hall dell'apprendimento alla hall di saggezza del piano mentale superiore. A questo punto, siete sulla buona strada per diventare maestri del sé e siete pronti a diventare servitori del mondo. Per tutti voi sul sentiero, il vostro obiettivo principale in questo momento è di riportare i modelli vibratori, che formano il vostro mondo personale nella realtà di terza-quarta dimensione, allo spettro di luce ed ombra originariamente progettato. Daronna Spettro 1. Banda di colori prodotta dalla separazione dei componenti della luce 2. Tutta la gamma di lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica 3. Gli elementi di un suono o altro fenomeno organizzati in base alla frequenza, energia. In questo modo, il pendolo della vostra coscienza non oscillerà così radicalmente da positivo a negativo e la vostra natura mentale ed emotiva ancora una volta tornerà ad essere stabile e centrata. Questo è un passo importante per imparare a vivere centrati nel vostro sacro cuore e sacra mente. Un discepolo sul sentiero dell'illuminazione deve ricercare il distacco centrato sul cuore ed il saggio discernimento. Nella persona non risvegliata, molte scelte vengono fatte inconsciamente più che attraverso la consapevolezza intelligente. È come se si fosse in uno stato semicosciente di consapevolezza. La fase iniziale per diventare una persona consapevole di sé e di rendersi conto di non essere consapevolmente svegli. Questo avvia il processo di cercare di risvegliarsi agli ammiccamenti del sé spirituale, perché questa è una parte intrinseca per diventare spiritualmente consapevoli e maestri di sé. Quando cedete all'irritazione e rispondete a voce alta, con parole o pensieri di rabbia, state usando l'energia astrale, che è contaminante per il campo aurico. L'uso continuato produrrà una forma pensiero negativa, che alla fine deve essere risolta dissolta attraverso la legge del cerchio. Visualizzate le vostre forme pensiero negative, che aggiungono un'altra pietra o mattone alla vostra prigione emotiva. Ricordate voi siete composti da unità di energia, che creano la vostra firma energetica, ed infine la vostra canzone spirituale. Dovete imparare a controllare i vostri pensieri e concentrare il vostro potere. I vostri pensieri aumenteranno in forza a seconda dell'intensità e della ripetizione dei vostri pensieri semenza. Cari cuori, imparate a concentrarvi sugli attributi migliori e più elevati delle persone e delle condizioni nel vostro cerchio interiore di luce e questo è uno degli aspetti più importanti per creare il vostro personale ambiente di quinto dimensione. Il linguaggio della mente inconscia e subconscia è in primo luogo immaginario. L'affinamento della mente subconscia e coscia e la sintonia con la mente superconscia sono fortemente accelerati dalla pratica intenzionale e dal perfezionamento delle capacità di immaginazione e visualizzazione. L'anima ha bisogno di un veicolo di espressione sul piano fisico per portare avanti la potenza e la magnificenza della creazione. Dovete elevarvi e proteggervi dal caos emotivo dell'esistenza della coscienza di massa. Tuttavia, dovete anche operare in modo efficiente tra le masse e diffondere la vostra luce mentre vivete la vostra quotidianità. Non potete vivere in un mondo distaccato e rinunciare al mondo materiale al fine di ottenere l'illuminazione. Diventare un indeciso mistico e irrealistico non serve a nessuno. Le pratiche meditative introspettive volte all'interiorità delle filosofie orientali vengono unite alle pratiche creative orientate verso l'esterno del mondo occidentale. In un ambiente di terza barra quarta dimensione, il vostro corpo mentale è incline a proiettare nel futuro, e questo crea paura ed incertezza. Il corpo emozionale riproduce sempre gli eventi del passato, alcuni bei ricordi, ma soprattutto rivive esperienze di fallimento o di dolore. Il momento presente viene a malapena registrato, a meno che non ci sia qualche dramma positivo o negativo coinvolto. Dovete adoperarvi per una forte connessione altamente sviluppata tra il corpo mentale ed il corpo emozionale, ed anche tra l'anima ed il sé superiore al fine di sviluppare valori spirituali raffinati, mentre attingete alle frequenze superiori della saggezza divina, idee e brillanti sgorgano dai piani superiori di intuizione. Potete sperimentare euforia in un momento e depressione il momento successivo mentre gradualmente raggiungete uno stato beato di consapevolezza, soltanto per perderlo nuovamente. Tuttavia, il periodo di depressione diventerà meno intenso ed anche meno frequente. Siate certi, che il vostro corpo dei desideri dell'ego si ribellerà e resisterà agli sforzi dell'anima e del sé superiore, e cercherà di mantenervi nelle solite pratiche e abitudini di servire soltanto il piccolo sé di suoi desideri egoistici. Dovete attingere al regno della sacra mente ed imparare il discernimento spirituale. Dovete costantemente monitorare e criticare le vostre parole, azioni e motivazioni mentre fate pratica per conquistare la disciplina sul piccolo sé. Ricordate tutta la conoscenza e è una forma di luce. Dovete sforzarvi di capire il vostro ruolo ed il vostro scopo in questa vita. Dovete guardarvi dentro per capire chi siete veramente, perché agite e reagite come fate e come sfruttare il vostro maggior talento e capacità potenziali. Questo dovrebbe essere il vostro obiettivo principale in questo momento. Riflessione, contemplazione e meditazione attiva sveleranno il mistero del vostro vero sé, e quali sono i vostri obiettivi principali in questa vita. Siete un centro di energia, un ricettacolo corpo-fisico, che contiene una quantità di pura essenza del creatore. Siete responsabili dell'integrazione ed utilizzo dell'energia di luce di cui avete bisogno per acquisire potere e dovete poi inviare l'equilibrio fuori nel mondo, a beneficio di tutti. Sottomettervi alla vostra missione divina e alla legge cosmica significa aderire alle leggi universali quando vi vengono rivelate. Percorrere il sentiero dell'ascensione richiede uno sforzo costante per fare le scelte più elevate per il massimo bene, con un intenso desiderio di servire. Dovete assumervi la responsabilità di tutte le azioni e l'energia, che definite, che sia positiva o negativa, poiché essa ritornerà a voi tramite la legge del cerchio. Il vostro attuale obiettivo terreno è di diventare servitori del mondo, e la via più rapida per raggiungere questo livello di maestria di sé e di stimolare la fiamma interiore del potere divino. La maestria del sé si ottiene con piccoli passi, non con balzi da gigante. Cari cuori, non importa il livello di consapevolezza spirituale, che avete raggiunto, vi incoraggiamo a fare del percorso verso una consapevolezza più elevata la vostra priorità nella vita. Il mondo e la realtà in cui avete vissuto e che avete sperimentato in passato sta rapidamente cambiando. Avete un'occasione d'oro per unirvi alle file di coloro che stanno creando un nuovo mondo luminoso per sé stessi e di loro cari. Avete anche il diritto di rimanere nell'ambiente negativo del mondo inferiore della realtà, che viene rapidamente purificato, pulito e modificato, creando così il caos e di cambiamenti imponenti che le masse e la Terra adesso stanno sperimentando. Che cosa sceglierete? Qualunque sia la vostra scelta, noi vi guideremo e vi proteggeremo entro i limiti della legge cosmica, e vi ameremo sempre oltre misura. Io sono l'Arcangelo Michele. Trasmesso tramite Ronna Herman.